Negli ultimi anni la tecnologia sta mettendo a disposizione anche del settore edile nuovi strumenti digitali. Uno di questi è il drone. Apparentemente sembra che non c'entri nulla con la costruzione delle case. In realtà è uno strumento utilissimo per poter fare tante operazioni di controllo, di verifica e per un accesso facilitato nei luoghi particolari del cantiere e quindi a bordo di un drone può essere montato una telecamera, un laser, un lidar, strumenti che permettono di scannerizzare il cantiere, quindi di controllare l'andamento dei lavori, di avere proprio un modello 3D del cantiere, di accedere in luoghi confinati, cosa abbastanza particolare che evita di rischiare la vita appunto alle persone che devono accedere in questi luoghi magari rischiando di rimanerci intrappolate e tanti altri utilizzi che però dall'altra parte richiedono anche un approccio diverso, pragmatico e di curiosità verso questi strumenti per poter aggiungere alle nostre competenze da tecnici tradizionali anche ovviamente competenze nuove che riguardano proprio l'utilizzo di questi strumenti.